Un seminario per discutere sulle norme antisismiche in un periodo in cui di problemi sismici se ne sente parlare tanto, si terrà il prossimo 18 dicembre. Quali gli obiettivi? Beh, intendiamo con questa iniziativa offrire agli operatori del settore una buona opportunità di aggiornamento sulla nuova normativa sismica che in relazione ai fatti dello scorsa primavera, il terremoto che ha colpito l'Abruzzo, è entrata in vigore con un anno d'anticipo. È una normativa che promuove una riforma culturale dell'antico modo di costruire, puntando su un nuovo metodo di calcolo strutturale, quello degli stati limiti che non sto qui a spiegare perché sarebbe complicato, ma punta pure a un severo controllo della qualità dei materiali e punta anche alla manutenzione programmata. Le nuove norme antisismiche, ossia il DM 14 gennaio 2008, segnano un passo importante nel campo delle costruzioni. Infatti si passa da una norma antecedente, che era di tipo prescrittivo, a una norma prestazionale. Cosa significa? Significa che il nostro edificio, il nostro ponte, viene progettato per delle prestazioni attese e quindi in termini di resistenza, di sicurezza e di durabilità. Cioè il nostro edificio dovrà essere durevole per il tempo per il quale è stato progettato e quindi importante è in questo caso la scelta dei materiali. Tutti i materiali utilizzati per le costruzioni dovranno avere una marcatura CE. Il seminario si articolerà in due sessioni, una antimeridiana e una pomeridiana. Dopo i saluti portati dall'onorevole assessore ai lavori pubblici beninati, ci sarà un intervento di saluti del direggente regionale, del dipartimento regionale dei lavori pubblici, ingegnere Maglio Munafo. Dopodiché ci saranno degli interventi tecnici da parte di professori della facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo. E precisamente del professore ingegnere Lidia Lamendo, del professore ingegnere Nunzio Sibilia, del professore ingegnere Liborio Cavaleri e del dottor geologo Biagio Spalma. Nel pomeriggio ci sarà, inoltre dopo una breve pausa pranzo, un intervento da parte del funzionario e dirigente del capo UOC IV del Genio Civile, l'ingegnere Domenico Armenio, che darà spiegazioni naturalmente sull'applicazione pratica delle presentazioni delle pratiche al Genio Civile. E poi ci sarà la presentazione di un software per il calcolo strutturale e a presentarlo sarà l'ingegnere Bruno Biondi.